Indubbiamente sta arrivando facendo quelli che sono i confronti in ambito regionale, stiamo eleggendo i congressi regionali con i presidenti, con i comitati regionali e naturalmente con quelli che saranno i delegati a Torino, così come la parte di consigli nazionali che è eletta su base regionale per poi arrivare a quella del 20, 21, 22 di novembre su base nazionale. C'è una condivisione nel trovare come sempre un punto di sinergia, quello che io sto cercando in questi mesi di facente funzione è di tenere un rapporto di stretta collaborazione con il Governo nazionale, con il Senato, con il Parlamento, con tutte le forze politiche, in modo particolare con i governi regionali, perché la nostra associazione ha un compito molto importante, quello di difendere quelle che sono le richieste necessità che arrivano dai territori, ma soprattutto di collaborare con quelle che sono le istituzioni, in modo particolare partendo dal Governo nazionale, proprio perché i temi sono non di carattere politico ma di carattere amministrativo. Ma adesso questo è estremamente prematuro, io sto lavorando come da tanti anni sono impegnato, quello che mi piace è fare le cose concrete, spero e mi auguro di poter dare il mio contributo e consentire alla nostra associazione di viaggiare sempre con il vento in poppa e arrivare a un congresso unitario, poi indipendentemente da quella che sarà la collocazione di ognuno di noi.